20 anni fa da Firenze è partito attraverso l'ente bilaterale questo nuovo corso di interpretare lo sviluppo del turismo e quindi questo ha consentito a questa città, a questa regione, tra l'altro nella Toscana si creò il primo ente bilaterale regionale che precorse i tempi. Quindi oramai più o meno tutti dovremo ragionare in termini di aree metropolitane e di regioni per il futuro anche in questo tipo di strutture per cui ci dobbiamo attrezzare sempre più a fare ragionamenti di questo tipo. La territorialità nel turismo è una cosa fondamentale perché senza politiche territoriali, senza qualità del territorio non si fa turismo. I turisti vengono a Firenze certo per una grande tradizione ma anche perché esiste una capacità di fare qualità nel turismo, quindi fare qualità significa poi interfacciare la qualità con la formazione. Adesso è Leonora Pisicchio nella mattinata che è il direttore generale del Fondo Forte e mi spiegherà anche l'importanza di questo aspetto perché senza professionalità nel turismo non si fa niente. Altrimenti un turista va dove vuole, molte località nel mondo fanno turismo a prezzi inferiori dell'Italia. In questa stanza ce lo possiamo dire, per cui questa grande competizione sarà sempre più dura nei prossimi anni. Il turismo anche se è un prodotto assolutamente nazionale e locale funziona come le esportazioni, funziona come le esportazioni. Quindi è legato alla competitività della moneta del nostro paese, quindi negli anni scorsi certo la crisi generale dalle manbrade in avanti ha determinato una crisi globale del pianeta, ma anche la situazione valutare dell'euro rispetto al dollaro è stato uno dei fattori di non competitività del turismo a livello internazionale. Perché è chiaro, costava meno andare a fare turismo in Florida che in Toscana o in Calabria o in Italia o anche in altri paesi dell'Europa. Quindi questo per dire che il turismo purtroppo sottostà alle dinamiche della globalizzazione molto di più ancora dei settori produttivi. Oggi il turismo può avere un momento di competitività, anche per il cambio col dollaro che è diventato un cambio per chi fa turismo favorevole. L'altro aspetto è quello dell'occupazione per quanto riguarda il turismo. Dobbiamo renderci conto che il turismo può essere per l'Italia una delle economie di prospettiva, sempre di più lo potrà essere. Il turismo soprattutto legato al settore agroalimentare, cioè la capacità anche, prima si parlava del settore dei pubblici esercizi, che certo ha avuto un momento di crisi dovuto alla carenza di reddito, ma sicuramente la formula turismo alimentazione mediterranea, che poi alimentazione mediterranea comporta una competizione anche nel Mediterraneo, attenzione non è un'esclusiva dell'Italia, sono quelle formule che sono vendibili all'estero. Vi sarà capitato spesso che qualche vostro amico o conoscente dice dove vai in vacanza? Vado nei Caraibi, perché i Caraibi è un'area indefinita per molti. Avete mai sentito qualcuno che arriva da un altro paese e dice dove vai in vacanza? Vado in vacanza nel Mediterraneo. Nessuno credo che oggi sia in grado di dire vado in vacanza nel Mediterraneo. Eppure bisogna abituarci ad un meccanismo di questo tipo, cioè ad una situazione di competizione che il nostro paese può giocare nell'ambito di un'area molto più vasta. Certamente il nostro paese ha dei vantaggi incredibili, come ne ha anche Firenze per storia, per capacità, per l'architettura, eccetera, lo hanno molte località italiane, ma la competizione non sarà più solo questa. Il turismo è nato a Pompei tanti anni fa perché era una delle pochissime realtà che potevano far turismo qualche millennio fa. Da quella formula ci si è poi spostata ad un turismo che è sempre più seguito anche i flussi culturali, certamente i flussi della capacità del turismo di vendersi all'esterno, della capacità di far promozione. L'Italia, non dimentichiamocelo, per una sorta di follia collettiva che ogni tanto capita, aveva abolito il ministero del turismo, cioè il ministero che si poteva occupare di una delle economie cardine del nostro paese. L'Italia, ancora recentemente, sta decidendo di chiudere tutte le sedi dell'Enit in giro per il mondo, pensando che la promozione si possa fare seduti su una sedia, alla sede nazionale dell'Enit a Roma e orientare i flussi turistici del mondo. Ma non funziona così. Cioè la promozione turistica, come tutte le promozioni, se io voglio promuovere la vendita di un pacchetto di caramelle, devo investire su quella promozione. Non è che si fa da solo perché sono finiti i tempi di quando il Marco valeva mille lire, tantissimi, neanche troppi, ma comunque qualche anno fa. Quindi questo meccanismo della competizione che derivava da una capacità di competizione valutaria anche del nostro paese rispetto ad altri, a livello d'esempio europeo, non funziona più. Quindi bisognerà sempre più puntare alla qualità del turismo e alla formazione degli addetti. Quindi questo matching dell'incontro tra domande ed offerte che voi avete varato e sul quale avete, sono vent'anni che ci lavorate come ente bilaterale della Toscana, io ve lo posso certificare, io sono stato anche vicepresidente dell'ente nazionale, so quanto impegno avete messo su questo progetto, che alla fine siete riusciti a realizzare e bene. Cioè è una delle eccellenze in Italia, perché è uno dei modi attraverso i quali spiegare anche ai giovani e alle aziende che è possibile l'incontro tra domande ed offerte. In questi anni abbiamo assistito a troppe fandonie. Io sono stato tra coloro sempre che ho sostenuto che questi erano un po' i cardini del problema dell'occupazione, come pure l'altro cardine, quello di che non si possano affrontare le riforme previdenziali non pensando che creino effetti sull'occupazione dei giovani. Fino a qualche anno fa mi si diceva che sbagliavo in questa previsione, perché in Germania erano riusciti ad alzare l'età pensionabile, a fare alcune cose, i giovani comunque trovavano lavoro. Ma in una Germania che aveva una capacità e dà una capacità competitiva nei settori anche produttivi e che calcola per esempio di poter essere competitiva fino a un cambio euro-dollaro di 1,80. Quindi se pensiamo che noi siamo andati a Catafascio con un cambio di 1,40, quindi ci dobbiamo rendere, rispetto al non voglio annoiarvi su questi dettagli che sono però non dettagli per il turismo, ci dobbiamo rendere conto che il nostro spazio è una competitività del prodotto che proponiamo e quindi nel nostro paese dobbiamo imparare a proporre il prodotto che la gente vuole consumare. È tanto semplice questo ragionamento da portare avanti che deve però essere realizzato, perché altrimenti esiste una situazione di cui ci dobbiamo rendere conto. 10 milioni in meno di turisti che hanno girato l'Italia negli ultimi anni, quasi 10 milioni rispetto a 30 milioni, cioè un'economia che ha avuto una crisi quasi del 30% nei flussi turistici, non nei fatturati fortunatamente, ma la situazione che si è creata è stata questa nel nostro paese. E allora noi dobbiamo utilizzare tutti gli spazi. Quello della destagionalizzazione è vero, è uno dei punti sui quali noi insistiamo spesso, perché destagionalizzazione significa creare per esempio attraverso un confronto anche con le istituzioni dei calendari delle manifestazioni, adesso semplifichiamola così, durante l'anno che sappiano garantire dei flussi costanti di turismo. È una competizione che ci deve vedere d'accordo, parti sociali, istituzioni, a creare anche dei banalissimi calendari delle manifestazioni all'interno di ciò che si fa in un anno che garantiscono un flusso costante di turismo, soprattutto il turismo che si ha la capacità di fare in località come la Toscana e come Firenze in particolare, che spalmino l'occupazione su tutto l'anno. Perché non ci aiuterà nessuno? Ricordatevi che sul turismo non in molti sono disponibili ad investire, se chiude un'industria sono tutti che, certamente, fanno anche bene per l'occupazione, sempre occupazione da difendere, sono tutti che corrono al capezzale. Se chiude un albergo, ha chiuso un albergo, magari qualche amministrazione dopo dieci giorni dà anche la capacità di convertirlo in una struttura abitativa e sono successe queste cose. Non è che la rapalizzazione, di cui mi intendo molto, non è che è avvenuta solo in Liguria, è avvenuta in tante località in Italia. Perché? Perché si sottovalutava che una superficie, un conto che venga occupata da un albergo, che ha una rotazione di persone durante l'anno rapidissima e ruota in un albergo centinaia di persone. Nella stessa superficie, se convertita a seconde case, ruota tutta più una famiglia. arriverà il padre e la madre, i figli qualche volta, i figli dei figli, magari non gli interessa più andare in vacanza in quella località. Quindi si sono fatte cose diametralmente opposte a quello che sarebbe stato il buonsenso nel nostro paese. Io credo che su questi temi noi dovremmo insistere e cercare di uscire un poco di più anche su una competitività che è necessaria acquisire. Certo, prima si parlava anche degli aeroporti. Io credo che Firenze meriti un aeroporto funzionante e competitivo che possa portare dei flussi importanti a Firenze. Però rendiamoci conto che, per esempio, in Francia, che oggi è il primo paese che ha sviluppato turismo, almeno in Europa, uno dei primi del mondo, ci sono dieci aeroporti, in Italia ce ne sono trenta. Certo, ci sono regioni con tre aeroporti a distanza di 50 km uno dall'altro. Anche qua, ma fate delle scelte. Si prende un compasso, ogni 300 km campa un aeroporto con dimensioni diverse, è difficile farli campare gli aeroporti. Ci sono altre politiche da fare anche in questi territori, che sono poi quelle delle infrastrutture, delle viabilità, dell'alta velocità, anche se oggi siamo in una città che sicuramente è la più servita in Italia e la più efficiente per quanto riguarda l'alta velocità. Ma purtroppo queste politiche nel nostro paese sono politiche alle quali si è rinunciato, perché l'alta velocità si ferma a Napoli. Quindi tutte le volte che piangiamo perché una parte del paese non ha possibilità di sviluppo, poi dopodiché questi sono tutti fattori di quella competitività del territorio di cui parlavamo prima che segnano la storia dei paesi. Quindi noi dobbiamo avere la capacità in questo di puntare ad alcune scelte che ci consentano di riaffermare che il turismo è l'economia principale del nostro paese. Tra qualche anno guardate che non avremo più chance nei settori produttivi, perché dei settori produttivi si occuperanno altri paesi nel mondo. L'Africa ad esempio si occuperà dei settori produttivi. Saranno le cose, non ci vuole frate indovino a spiegare queste cose. Anche il settore dei servizi, ad esempio i servizi immateriali, si stanno già delocalizzando in paesi come la Tunisia, l'Albania, eccetera. Ogni tanto vi capiterà di chiamare qualche call center e chiedere ma da dove mi sta rispondendo. Adesso le località non ne dico perché non è giusto dire. Sono tutti paesi che hanno diritto ad avere anche una fetta di divisione del lavoro internazionale, però certamente nel nostro paese alcuni servizi spariranno, anche i servizi, quelli immateriali. Sparirà probabilmente larga parte della produzione, il turismo potrà rimanere. Anche se, ripeto, il turismo funziona come le esportazioni. Le esportazioni funzionano se il paese produce beni e servizi competitivi e funzionano soprattutto se esistono una capacità di differenziare valutario che non penalizzi l'esportazione, così come non deve penalizzare il turismo. Mi fermo qua. Grazie Pierangelo Venevi che ci ha dato una corrispondenza.